La sostenibilità in agricoltura passa anche attraverso l'innovazione della meccanizzazione e con questo obiettivo il Governo ha stanziato nel PNRR 400 milioni di euro ai quali si aggiungono altri 225 milioni che saranno gestiti da Ismea come Fondo per l'Innovazione in Agricoltura. Due finanziamenti che possono dare una mano concreta alla categoria come spiega il responsabile dei rapporti istituzionali di Confai Lombardia, Sandro Cappellini. Sono due finanziamenti interessantissimi, prima di tutto perché intanto avendo a disposizione questi capitali noi potremo continuare ad innovare l'agricoltura. Oggi l'innovazione in agricoltura, le minime lavorazioni, tutto quello che serve per rispettare l'ambiente e per continuare a produrre prodotti di qualità necessita di queste tecnologie. Queste tecnologie costano veramente milioni, queste macchine costano veramente milioni e sono un pezzo di ferro indispensabile per il futuro dell'agricoltura. Ieri abbiamo avuto anche un incontro con l'assessore regionale all'agricoltura che ha condiviso che l'innovazione passa attraverso il contoterzismo che metterà a disposizione di centinaia, di migliaia di aziende agricole tutte quelle tecnologie che potranno sostenere e continuare a sostenere un'agricoltura di qualità a livello regionale, a livello provinciale ma anche a livello nazionale.